Più le strade sono sicure, più aumentano gli incidenti mortali. Un dato che sembra quasi paradossale. A dirlo è stato l'assessore provinciale ai lavori pubblici alla viabilitaggio a Maria Santucci. Vorremmo capirne di più. Guardi, è un dato che in questi anni, francamente, anche a me ha stupito. Poi, confrontandoci con i tecnici, con gli operatori del settore, ci siamo resi conto che è così ed è così spesso. Questo perché la buona qualità del manto stradale favorisce, con queste macchine moderne, l'innalzamento della velocità. Quindi si ha un minor numero di incidenti stradali. Considerate che da quando noi siamo arrivati nel 2010 gli incidenti stradali sono dimezzati, sono meno della metà. Però sono aumentati i morti. Questo perché, purtroppo, l'alta velocità, se prima con un pessimo manto stradale si andava a basse velocità, si era costretti ad andare a basse velocità e quindi però c'era un numero di incidenti superiori ma con scarsi rischi, stavolta trovare di fronte l'imprevisto su una buona strada rischia di essere la causa principale della morte. Perché i ragazzi hanno la difficoltà di guidare di fronte all'imprevisto. Molti dei morti giovani muoiono purtroppo perché hanno l'incapacità in quel momento, nel senso della guida sicura, perché hanno abusato di alcol e droghe e quindi hanno la difficoltà di avere una percezione certa della sicurezza con cui guidano. L'altro problema è però l'alta velocità. L'intento è quello di creare un tavolo con tutti gli operatori, tutti gli addetti ai vari settori che contribuiscono alla sicurezza stradale per poter proprio prevenire gli incidenti. Ma il ruolo in particolare, per esempio, del suo assessorato quale può essere? Guardi, noi stiamo facendo, insieme all'assessore Benchini in questi anni, devo elogiare l'assessore Benchini per quello che ha fatto in questi anni nell'ambito della prevenzione, noi come assessorato alla viabilità in questi anni abbiamo cercato di migliorare la qualità delle strade, che era il nostro principale compito. Oggi dobbiamo, insieme noi e l'assessorato alla formazione, mettere in campo un'iniziativa comune che coinvolga la prefettura, la questura, le forze dell'ordine e i locali. Perché non abbiamo altrimenti più la forza di governare questo percorso. Non ce la facciamo più da soli, soprattutto in una fase di trasformazione delle province, come sta avvenendo in questa fase della nostra vita, noi abbiamo bisogno che facciamo un'iniziativa sola. Con l'assessore Benchini abbiamo deciso stavolta di partire dal basso, cioè di partire dal 118, dalle forze dell'ordine che tutto il giorno stanno sulle strade e che ringrazio, dai locali che devono dare una mano con i loro gestori e da questo cercare di fare un progetto condiviso che metta insieme quelle risorse che ci sono e che evite gli sprechi. Ecco, come ha detto lei, c'è questa situazione comunque di confusione, per esempio per quanto riguarda la possibile sopravvivenza della provincia, soprattutto per quanto riguarda le competenze che a lei verranno assegnate. Quindi i servizi, proprio in particolare per quanto riguarda il suo assessorato, quali potranno essere, quali potrà fornire? Guardi, innanzitutto devo dire una cosa, non mi piace lamentarmi, non è questo il senso del mio intervento di oggi, però va constatato come lo Stato oggi abbia ridotto gli trasferimenti sulla manutenzione ordinaria delle strade provinciali da 9 milioni e mezzo di euro a zero. Quindi lo Stato quest'anno non ci ha dato nemmeno un euro per garantire la sicurezza delle nostre strade. Nonostante questo stiamo facendo i lavori di manutenzione, e nonostante questo stiamo progettando nuove strade, cercando di eliminare gli sprechi. È evidente che noi dobbiamo innanzitutto garantire una maggiore qualità delle strade, quindi garantire che il manto stradale sia assolutamente un manto stradale sicuro. Due, continuare con l'opera che abbiamo fatto insieme alla Polizia Stradale, al Comandante Zaccaria e al Comandante Tornatore dei Vigili del Fuoco per spiegare ai ragazzi nelle scuole come praticamente va guidata la macchina in condizioni meteo avverse. Questa è la nostra preoccupazione, da questo incominciamo a partire con i nostri compiti. Metteremo a disposizione la protezione civile per tutte le iniziative, i gruppi di protezione civile di tutti i comuni, per tutte le iniziative che dovessero essere necessarie. Però per fare questo abbiamo bisogno del coordinamento del Questore, del Prefetto di Viterbo, perché ci metta tutti intorno a un tavolo tutti quelli che il sabato e il sabato e la domenica sono sulle strade e sono costretti purtroppo a fare la conta delle vittime. Buona manutenzione delle strade ma anche l'illuminazione magari? Guardi, noi stiamo sperimentando, credo in Italia, anche per chi ha fatto la cimina ormai è un B2E, anche in questi giorni la gente mi ferma per ringraziarmi di questa iniziativa che ha fatto la provincia, quella dei Solar Ground, cioè delle strade della nostra provincia che finalmente hanno un sistema di illuminazione antinebbia efficace ed efficiente con i led ai margini delle strade. Questa è un'iniziativa che noi stiamo ampliando. Nelle prossime settimane appalteremo 35 incroci che verranno messi in sicurezza in sistema antinebbia. L'idea è che dovunque ci sia una strada a forte rischio a nebbia tutte vengano illuminate con il tempo attraverso la programmazione e che queste strade vengano garantite appunto dalla nebbia e dai disagi che si possono creare con la nebbia. Lei ha detto insomma che i soldi ovviamente stanno diminuendo, cioè le risorse sono decisamente poche. Se ci dovessimo trovare ad affrontare di nuovo un'emergenza neve come quella dello scorso anno? Innanzitutto speriamo di no, perché significa danni per milioni di euro per il nostro territorio. Dall'altra parte noi abbiamo un'esperienza ormai acquisita e quando dico abbiamo parlo degli uffici, delle maestranze, delle ditte, un coordinamento che mi sembra abbia ben funzionato l'anno scorso per quanto riguarda l'amministrazione provinciale. C'è un buona sinergia con la prefettura e con le forze della protezione civile. Si tratta di rimettere in campo quello che l'anno scorso siamo riusciti a fare facendolo anche meglio. Probabilmente la lezione dell'anno scorso ci ha servito anche per formare una capacità di comunicazione migliore. Io credo che su questo dobbiamo lavorare, su questo ringrazio gli operatori dei media locali perché noi una cosa sulle strade dobbiamo garantire. La notizia in tempo reale che è uno dei problemi che noi abbiamo perché noi non possiamo più permetterci nell'epoca della comunicazione di mandare un automobilista su una strada senza sapere quello che puoi trovare. Noi dobbiamo essere in grado di poterglielo comunicare in tempo reale così che lui si possa organizzare.